Scompare dalla scena della vita Vittorio Andolfato, spesso intervistato ai nostri microfoni. Insegnante appassionato, educatore attento, conferenziere raffinato, Vittorio Andolfato ha trasmesso l'amore per la conoscenza, contribuendo a formare il pensiero, gli animi di generazioni di Bassanesi, ad un sapere aperto e libero. Cittadino moderno, curioso e attento, ha declinato il suo impegno civico in vari fronti, lungo le vie dell'integrazione con l'Associazione Babele e nel ricordo della resistenza dei valori fondamentali della Costituzione italiana con l'Associazione 26 settembre. Storico e filosofo ha trasmesso a tutti il suo insegnamento più importante, non in classe, ma con la sua stessa vita. La cultura non si diffonde nella fragilità dell'apparenza, ma si testimonia con la forza della sostanza. Bassano perde così una figura di spicco che ha lasciato e lascerà il segno. Grazie. Grazie. Grazie.